Salve amici di Advents Italia, in questo video andremo a vedere l'ultimo esercizio, quindi il quarto esercizio della prova di comprensione della lettura dell'esame Celli 3 livello B2, sessione primaverile 2018, una delle prove più recenti che potete trovare online. Poi, nei video precedenti abbiamo visto i primi tre esercizi, questa è una tipologia totalmente diversa di esercizio perché abbiamo delle domande a cui rispondere dopo aver letto il testo con un limite di parole specifico che dobbiamo rispettare, quindi qui è obbligatorio stare all'interno di questi limiti. Quindi, se siete qui ad esempio a cinque parole dovete cercare di scriverne di più, se siete qui a diciannove dovete toglierne qualcuna, quindi dovete contare bene le parole. In quali occasioni i destini di Roberto e Sander si sono incrociati? Leggiamo quindi la prima domanda e cerchiamo la risposta. La storia di Sander e Roberto inizia lo scorso settembre. Sander vive in Olanda ed è quello che nell'ambiente viene definito un cavallo difettoso. Quindi Sander è un cavallo, un bel animale ma con carattere difficile e il fatto che sia di temperamento nervoso non lo rende particolarmente quotato. Roberto Previtali sta a più di 1100 km di distanza a Bergamo ed è quello che normalmente viene definito un bravo ragazzo. Il mattino lavora, la seria studia, il pomeriggio cabalca. L'amore per i cavalli in casa Previtali si tramanda da generazioni. Non sappiamo però come si sono incrociati i destini. Nella piccola scuderia di famiglia ce ne sono 10 ma ne serve uno nuovo e si parte per l'Olanda. Cercavamo un buon cavallo da comprare senza spendere una fortuna. Mio padre non è un petroliere. Quindi cercava un cavallo a prezzo conveniente. E poi la nostra filosofia è sempre stata questa, tenere cavalli che possono regalare sorprese ma che anche se vincono poco non ti fanno versare un mare di lacrime, racconta Roberto. Quando ho visto Sander avevamo già scartato due cavalli e stavamo per ripartire per l'Italia. Quindi lui parte per l'Olanda. Quindi in quale occasione i destini di Roberto e Sander si sono incrociati? Quando Roberto è dovuto partire per l'Olanda per comprare Sander. Quindi qui siamo a 15 parole e questa dovrebbe essere corretta. Perché Roberto non si dispera se i cavalli che compra si rivelano poco competitivi? Perché non spende tanto. Cercavamo un buon cavallo da comprare senza spendere una fortuna. Mio padre non era un petroliere. Quindi la nostra filosofia è sempre stata questa, tenere cavalli che possono regalare sorprese ma che anche se non vincono non ti fanno versare un mare di lacrime. Quindi perché li paga poco non avendo una famiglia ricca. Quando paghi poco non ti disperi se non vincono perché non hai che hai puntato molto su di loro. Quindi perché li paga poco non avendo una famiglia ricca. Scriviamo. Sono nove parole. Quindi tra 7 e 13 siamo nel limite indicato. Non avendo una famiglia ricca o non provenendo da una famiglia ricca. Stessa cosa. Perché il proprietario olandese di Sanders è contento di averlo venduto da 12 a 18 parole? Quando ho visto Sanders avevamo già scartato due cavalli e stavamo per ripartire per l'Italia. Ho capito subito che lui era quello giusto. Il papà di Roberto ha staccato un assegno da 20.000 euro, una cifra 10 volte inferiore rispetto a quella che solitamente si paga per i cavalli da competizione. Si paga a quanto pare 200.000 euro. Ma il proprietario olandese di Sanders gli ha stretto la mano contento, convinto di aver chiuso un buon affare. Si era liberato di Sanders. Quindi perché era contento? Perché riteneva di aver fatto un buon affare non credendo in Sanders. Sono 12 parole, quindi siamo nel limite tra 12 e 18. Abbiamo raggiunto il limite minimo. Se non siamo a 12 dobbiamo aggiungere qualche parola. Possiamo dire non credendo nelle capacità di Sanders. Siamo già a 13. In che modo Roberto è riuscito a rendere Sanders competitivo e vincente? Da 10 ai 15 parole. Una volta a casa continua il suo racconto Roberto. Sanders si è rivelato però più nervoso di quando l'ho provato. Le prime gare sono andate male. Dopo ogni salto Sanders si imbizzarriva e io mi spaventavo. Poi ho imparato a conoscerlo. A parlare il suo stesso linguaggio. A comprendere quello che voleva dirmi. O i suoi saltelli. E lui ha imparato a fidarsi di me. Un cavallo va capito se vuoi ottenere da lui grandi risultati. E i risultati sono arrivati. Dopo aver vinto il premio South Hermes a Parigi. Roberto è stato definito dalla stampa di settore la rivelazione italiana. Quindi da 10 ai 15 parole possiamo dire cercando di capirlo, conoscerlo, perché comprenderlo, conoscerlo e ottenere la sua fiducia. Quindi cercando di capirlo, conoscerlo e di ottenere la sua fiducia. Sono 10 parole. Quindi siamo nel limite minimo. Possiamo anche aggiungere, ad esempio, cercando di capire il cavallo, conoscerlo e di ottenere la sua fiducia. Cioè se aggiungiamo il cavallo siamo a 12. Si può giocare un po' con le parole. Invece se dovessi togliere una parola, direi cercando di capirlo e di ottenere la sua fiducia, toglierei conoscerlo. Si gioca un po' con queste cose. Questo è il foglio delle risposte. Queste sono le risposte di questo caso. E anche qui non dice di toglierci punti nel caso di risposte sbagliate. Però un punto se la risposta è incompleta. Due punti risposta parzialmente corretta ma copiata dal testo. Quindi come avete notato io ho detto ottenere la sua fiducia, non fidarsi di me. Se qui avessi detto perché ha imparato a conoscerlo, a comprendere quello che voleva dirgli e a fidarsi di lui. Quindi l'ho praticamente compiato. Mentre se dico di capirlo e conoscerlo, quindi capire quello che vuole dire conoscerlo e fidarsi di me e ottenere la sua fiducia. Quindi usate dei sinonimi per non rischiare. Perché se la copiate vi danno, anche se è corretta ma l'avete copiata, vi danno due punti. Quindi se è corretta e rielaborata, quindi non copiata dal testo, prendete tre punti, punteggio pieno. Però non perdete nulla rispondendo in modo sbagliato. Quindi vi invito a rispondere a tutti i costi. Questi sono tutti e quattro gli esercizi. Quindi nella descrizione del video vi lascio anche la playlist Cd3b2, comprensione della lettura, con altri esempi di questa prova. Trovate per ogni anno tutti e quattro esercizi in quattro video diversi. Vi invito a guardarli se volete maggiori informazioni al riguardo. Ho caricato anche delle playlist, come ad esempio Cd3b2, comprensione della lettura, prova completa. Le playlist che finiscono con prova completa hanno l'intera prova, quindi tutte e quattro le parti, con il tempo che avresti a disposizione durante l'esame. Quindi i compiti cambiano in modo automatico dopo ogni 10-15 minuti. Voi dovete avere un foglio davanti a voi con una penna, segnarvi le risposte e in fondo al video vi lascio per alcuni minuti anche il foglio delle risposte e potete controllare se avete risposto correttamente o no. Perché un conto è capire quello che io vi spiego e un conto è provare a risolvere e fare il compito per conto vostro. Quindi io vi suggerirei di provare a farlo anche da soli. Tutte le playlist che finiscono con prova completa, non solo Cd3b2 ma anche Cilsb2 o Plidab2, per tutti gli esempi ho fatto anche la prova completa dove carico tutte le parti dell'esame e vi consiglio appunto di dare un'occhiata perché potrebbe aiutarvi per l'esame. All'interno del mio canale, se cliccate su Advents Italian e entrate nel mio canale, nella sessione playlist trovate tutte le playlist che ho caricato con tutti gli esami italiano dalla A1 al C2. Non solo comprensione della lettura ma anche ascolto, prova orale, produzione scritta, grammatica, tutte le parti e anche delle playlist con lessico o consigli per imparare una lingua straniera. Vi consiglio di dare un'occhiata, vi potrebbero essere utili. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nel prossimo video. Ciao!